Voto video? 8 e mezzo Facile facile un 8 e mezzo Mi è piaciuto molto Inizia ciò che chiudiamo qua perchè mi sta screscendo Abbiamo sempre Cactus che è spruccato Abbiamo iniziali Per la ultima giardina Infine la ultima giardina Per il giardino Con il giardino La ultima giardina La ultima giardina Raquette La ultima giardina Ho rigiocato Radio Raquette Contro Park Anche se da un sacco Che non lo gioco Ma che andate tranquillamente Di Blitz Can Mace Z All Open Quindi Prima da prendere aggiungo se possibile contro calista pike è comunque blitz la scelta il nautilus è meglio un po' di spotify giocerei l'exosto game contro il loro è fortissimo anche i tab qua sono rotti giocerei l'exosto game grazie per i 20 mesi e luca con i 56 grazie mille boys come state? grazie mille grazie mille Forse era meglio l'aftershock No, non credo Ho notato che in questa mappa invadere È veramente facile È molto più difficile difendere Esattamente da dove difendi E ho flashato La difesa era buona Non c'entra È probabilmente indifendibile l'invade Quando aveva un brutto team per invadere Ma è proprio Allora Allora Questo non è un buon trade Ora abbiamo usato il flare Merda mi ha preso con la E Non pensavo ce l'avevo ancora Sì che abbiamo anche l'istre che sta muore L'è muerta Questi morti sono tipo Grazie Me lo potevi ingarmi Almeno che potessi fare questa roba Quello dovrebbero perdere No non credo Eh cassa di incontro a Z Non divertente La serie mi vede Ok ci facciamo Uno due pazze Meno mai Che si è salvato cazzo No possiamo fare Dei materializer E ingaggiare su kalissa Non si gioca All'altra parte del mondo Tenderemo Beh hanno perso un sacco di farm All'altra parte del mondo So WTF, c'era pure l'ice Più che altro come cazzo ha fatto Ah, io lo devo salvare Devo pure ucciderlo No, non lo potevo uccidere Andiamo top, ma c'ha Ah, no, non posso andare top Mid No, la prenderò mai No, la mazziamo quello Posiamo fare un dematerializer più grave Ma si deve far ammazzare quella No, la prenderò Muore, no? Muore pure quella Oh, che cool Ah, quale è Zed Ok Possiamo ormai top Il Frozen ci piace? Sì Me lo faccio subito Parto da qua Così è molto difficile Io muoio Lei non moria mai E sono anche io Mid lane Io ho a giocare per quello Che ho appare quello Mamma e mamma Che ho appare Che ho appare Giga muore Giga muore, eh? Sì, è morto Io sono davvero difficile a ammazzare Mi ammazza solamente l'ice Il Frozen è sbloccato Il Frozen è sbloccato sui Abbiamo anche il Z adesso Il Frozen è sbloccato sui Oh, Giga chat Oh, Giga chat Eh, Rilesi mi buca Veramente Però qui c'abbiamo la signora Vision A parte che prendiamo la polita di push Che buonissima Io sono in mortale Magari Magari flasciavo No, affanculo Potrebbero tranquillamente essere qua Non c'è da giocare qua Non c'è da giocare qua Chi ha fatto quella cola? Non c'è da giocare qua E no, muoio stessa Non muore Meno male Lui non muore L'ultima Ok È morto Poi da quella Il game è invincibilissimo Questo è un gran lavoro Non c'è da giocare qua Non morire mai Non c'è da giocare Lui potrei poter salvare Io non muoio Non c'è da giocare qua So a dare loro Forse è contestabile ci avrei pure il frozen in base che stessa l'ammazzo c'è il frozen mi faccio locket non mi piace mi piace ho una tema per z ha senso no il night super cousin lo zek un pezzo di magic resistance ma faccio sicuro poi il resto lo voglio in armatura però non so bene cosa fare forse night oh no mi piace non un'altra 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 Sì, sì. mi metto l'exo e l'ha doggiatel bastarla ma non ce la fa outplayarci la c'era bottom flash ahhh eeehhh eeehhh psss No ma no un gioco Ripeto cosa farlo? Z che non mi fa impazzire La Tormel nemmeno Forse questo mi piaciucchia Faccio questo Ce la fanno? A voi è nice Zedno nemmeno essere problemi Non posso salvare E non male Ora sicuramente poteva finire meglio Devo addirittura venire il bar adesso Ora che lì sarà l'altro dato Voglio giocare per questo Oh il rumore è strano quando Quando usi il grab Quando usi un'abilità in generale Non voglio grabbarlo Possiamo provare a giocare per il bar Possono sicuramente essere fastidiosi per gli avversari Soprattutto se lo iniziamo in due Senza DPS Allora bravo non ma C'è trena guarda dietro di me potrebbe... allora ok ecco abbiamo l'item in base adesso non so quanto più veloce vado ok vado veloce ops ho levato il coso lo special non è facilissimo qua bene bene il jungle c'è morto e l'ice è viva e vedono c'è un tempo a regolare immediatamente andare in base? dovrei farli andare tutti più veloce non è giusto cosa è morto voluver? no non c'ho neanche la ulti non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è beh direi che è andata bene questo è morto questo è morto ed è anche tiltato io mi fermeria anche così non dovrei morire nemmeno dai l'ice però forse però forse era meglio il radiant che mi dà più hp se vuoi pure contro gli altri ma dico quanto vanno più veloci i miei alleati? di 100 vanno più veloci ma è fuori di testa è rotta sta roba porsche due avevo vinto da parte da mi se si Sono virtualmente immortali ragazzi Ci va benissimo Guarda che qui di uno ci muore Volocalista era difficile da prender Non dobbiamo giocare dobbiamo giocare per quello Forse era rischioso passare qua Ok Sì sì ci sta con la No la Mi farò Non sai che mi faccio Mi faccio No Non mi devo fare niente Ho trollato Se non moriamo siamo contenti Giocao per questo Io sono messo bene Ho un bel posizionamento Porco due sono sbattato dal muro Ma muore uguale? No Anco io Non tanco più Mocktovaros Non so quanto possiamo stare al sicuro adesso Eeeh Hopla Olle Olle Giocao per questo Giocao per questo Alt skill dopo Luke Perché Lo stun che avrebbe dato il tempo C'era una generazione particolare Sì Il Glacial Augment Se tu Hai il Glacial Augment Più tempo aspetti Meglio Il fatto che con questo nuovo item Di base potrebbe essere Come in sempre Di attaccare subito Perché Gli buffi tanto il DPS Però questa partita Buona Boizze Natius Porta Satisfazione Grazie a tutti